alla fine il cinema è immagine e se vuoi rendere iconico un film hai bisogno di due cose una l'abbiamo detta prima che molte persone vedano il tuo film perché anche in termini di innovazioni al di là del budget necessario nonostante un'idea possa essere assolutamente innovativa se non viene vista da un numero sufficiente di persone in realtà quella cosa non migliora poi ciò che viene dopo ed è per questo che anche nel cinema ci sono stati esempi di registi che hanno anticipato forse troppo i tempi ma o sono stati visti da poche persone o non avevano il budget necessario in realtà poi l'onda di quell'innovazione arrivata dopo con un'eventuale miglioria magari dell'idea iniziale ma se ci pensate anche il cinema stesso cioè sono tutte idee rubate poi migliorate nel tempo e quindi in realtà Jurassic Park è diventato importante anche perché è stato visto da tante persone cioè un cult deve essere visto da tanti per divenire tale e quello che dici tu è l'importanza proprio della della struttura estetica infatti anche star wars su questo è fortissimo perché perché tu hai quell'immaginario che è una fantascienza ma vicina a noi se ci fate caso no tutte le le macchine all'interno di star wars le astronavi eccetera sembrano più vicine al nostro mondo cioè con le toppe quasi con lo scotch sembrano quindi è un qualcosa che crea una connessione nello spettatore anche di quegli anni nonostante si parli del futuro ma spesso non poi si scherza sul casco di dart butter chiaramente è una cosa che vista con un minimo di distacco pare ridicola però in quel momento in quel contesto è diventata talmente potente che vedere oggi un dart butter fa comunque impressione nonostante la ridicolaggine del tutto tant'è che poi hanno preso per culo a balle spaziali ma non solo perché perché tu hai uno storico cioè per te quello non è un tizio scemo col mascherone è dart butter ok quindi si porta con sé tutto il peso del chiacchiericcio e dell'utilizzo di quell'immagine negli anni esattamente come questo è un discorso dell'iconografia in generale state alla figura ricorrente principale è la croce ok cristiana ha un valore diverso o lima la rappresentazione di gesù cristo anche chi non crede è comunque legata a quell'immagine perché nel corso della storia l'uomo l'ha rappresentato in mille modi l'ha citato è stato presente e questo vale anche con i grandi film che riescono a fare questo è chiaro che anche giurassic park abbia al suo interno delle immagini memorabili no però ogni cosa di una mia trema o l'acqua c'è pensi subito a giurassic park io sinceramente questo no perché ripeto avendolo visto da grande non non è così iconico per me è più iconico negli effetti che nelle sequenze che per me sono abbastanza così un po giocate alla grande la spirito perché ripeto c'è la differenza è che giurassic world proprio si sono dimentiato di scriverlo cioè per lì perlomeno l'avano scritto cioè uscisse adesso si sarebbe da criticare ma uscisse adesso sarebbe un miracolo un film girato così blockbuster visto me li girano cioè veramente roba da roba da quello che dicevo io però è un'altra cosa sono d'accordo sul fatto che un film diventi cult quando lo vedono in tanti però non è detto che lo debbano vedere in tanti sul momento ecco giurassic park è diventato un caldo sugli anni c'è un instant cult invece una per dire la cosa non i dati pure se pensate ma c'è piena la storia bladerunner lo dico sempre perché fece un flop diventa uno dei caldi più grossi però in realtà non ha tutto quel pubblico è un cult per chi ama davvero il cinema perché se no lì si ritorna all'insuccesso di un film come play drama nel 2049 del successo di un film di merda come giurassic world è la differenza di proporzione di pubblico no no ma in realtà è la differenza è l'incasso sul momento e l'incasso a lungo termine lì è solo qui è sul momento poi in realtà se grande non ha incassato molto nemmeno a lungo tempo però ne hanno parlato tutti alla fine è rivalutato al 90 per cento da tutti i critici del mondo io ma poi quanto se ne parla quanto viene ripreso quanto il film non tanto quanto un instant cult c'è un film come giurassic park incredibilmente vale per il pubblico più di bladerunner ha fatto una botta bladerunner 2049 ha fatto un successo perché hanno pensato che bladerunner fosse diventato un cult come giurassic park ma a livello del cult va dal più basso al più alto che non ha fan non ha fan base cioè la differenza secondo me è che la differenza tra che ne sono giurassic park e un bladerunner secondo me hai preso l'esempio perfetto in realtà tutti conoscono bladerunner pur non sapendolo è quella la cosa assurda perché tu vedi l'utilizzo di tantissime cose del film di scott anche in altri film in serie tv per me è rubato è ancora più rubato perché io sono però non lo sai da spettatore quindi non diventi fan col gadget dell'origami perché non hanno mai fatto il gadget dell'omino e c'è lì è uscito che un mese prima io ve lo dio due mesi prima perché ero bello grande ma anche sei mesi prima lo ricordo anch'io taini astucci gioini tutto quello che doveva essere ci hanno speso un cioè quello è il classico blockbuster nessuno ha mai pensato che potessero incassare per quello che ho detto facciamo una storia semplice perché ci hanno speso talmente tanto ripeto però se vale come nella musica pensiamo al velvet underground esce nel 67 il primo disco l'omperano 30.000 mentre nello stesso periodo esce beatles o non 10 milioni velvet underground hanno influenzato come diceva il grande brianino tutti e 30.000 che abbiamo comprato il disco abbiamo iniziato a apprezzare la musica e a suonare perché sono quei figli e chi ha visto blade runner come l'ho visto io a 12 anni rimani flashato è una cosa che ti avvicina tantissimo al cinema perché a differenza per esempio giurassi parker che ho visto anche la più grande quel film subito al di là della meravigliosa messa in scena che da ragazzino anche bladerunner che non ci si dimentica ma io quando lo vedi feci mare ma cane perché con la città l'occhio lì vedi che non lo so anche quando l'ho rivisto a 15 anni che l'hanno riportato al cinema per il 10 anniversario vi dicendo nel 91 per la director scatta che avevo 18 anni di questo è proprio un altro livello cioè ci sono dei cult che divengano tali perché sono a un certo punto se noi guardiamo blade runner non va solo storicizzato c'è la cosa splendida che giurassi park adesso comunque ha una trama una pellicola un modo di fare invecchiato in un certo senso le dranne no nemmeno di 20 secondi niente niente perché se a livello visivo non ci mette una scrittura alta quanto il livello visivo alla fine il film va a scomparire rimangono appunto le scene iconiche iconiche e rimane infatti quelle tre scene tutti conoscono di bladerunner lui che tirare piangere sul tetto conoscono le cose che poi non hanno visto tutto il resto non quindi in realtà io sono dell'idea che molti cult con la società specialmente di adesso si tenda a dire un bello bladerunner perché lo diano un po di tutti e poi secondo me hanno visto vattro scene e me ne frega un cazzo di niente invece questo coso qui giurassi in parche che comunque andrebbe solo storicizzato per gli effetti speciali per un certo tipo di regia continuano ad andare avanti perché continuano a bendecipo pazzi e poi non ci dimentichiamo che il dinosauro a me non mi ha fregato un cazzo ma piace ai bimbi di tutte le generazioni perché è l'unico animale che non esiste ma perché è l'unica cosa che non esiste quindi come garbano i mostri garbano i mostri che non sono mostri secondo me è ancora meglio perché è un mostro che però è esistito è esistito è quello che garbano il dinosaurio ma io mi ricordo che fecero pure tipo in edicola no le collezioni ti ricordi io ce l'ho avuto sì che c'erano c'era il t-rex a forma di occhiale 3d e poi vedere ma non solo di giurassic park proprio dei dinosauri anche perché dopo ragazzi dopo quella volta di giurassic park ci sono stati 147 mila 200 film dinosauri uno più brutto di per l'altro andava in edicola perché si parla di nemmeno metà anni 90 c'era i bustoni con dinosauri di ogni tipo c'è ormai le fabbriche io penso queste fabbriche cinesi coreani italiane giapponesi che c'erano vestiti dinosauri dall'anni settanta non li voleva nessuno l'hanno stioccato in questi bustoni carissimi a 15 mila lire 10 mila lire per i bimbi che hanno comprato giuattoli dell'anni settanta che se li tocchi probabilmente poi tocchi vitti a scanciglio hanno comprato questa roba via metà anni 90 perché c'era nessuna regolamentazione niente ce niente fatto erano fatti il petrolio praticamente c'è un certo senso hanno fatto cioè non ci rendiamo conto cioè voi siete più giovani venite conto perché vedete quanto se ne parla adesso ma non mi rendete conto all'epoca quanto ci hanno rotto i coglioni con questo giurassic park e me lo ricordo mi è uscito nello stesso anno c'era giurassic park e c'era falfiction che uscì al cinema poco dopo cioè ci sbranavano tutti i coglioni con giurassic park e nessuno cagava falfiction che ha incassato benino ma anche quello è diventato un cult per la sua grandiosità col tempo perché all'epoca io mi ricordo tanti critici e molti critici italiani tipo bertarelli altri che avevano già 102 anni all'epoca che dicevano che firme di merda ma chiesto tarantino cioè non ce lo dimentichiamo ora storicizziamo sono 30 anni anche da falfiction e che cazzo c'è quindi 30 anni è più grande firme degli anni 90 aveva già fatto un piccolo firma come negli ene si era risordito però in un certo senso ricordava altri film nella sua grandezza quello lì arrivederci grazie questa roba qua mi succede anche a me con l'animazione quando si parla di dello studio ghibli tutto l'ha fatto mia zaki tutto anche film di takata ha fatto takata che sarebbe stato anche il suo maestro all'inizio però un'importa oppure quando guardano i film tipo your name fanno questo film no ricorda mia zaki tutto ricorda mia zaki basta che ci sia un po una musia sdorcinata col pianoforte col violino ci siamo un sentimento che partirà dello scuoiamento della spada del samurai e mia zachiano sui quello perché è un po l'ignoranza basilare c'è quello in quel senso c'è se te vedi dici otomo ti guardano ti fanno no no a tu ma tre volte cioè pensano che gli offendi i dici con pensano che tutti gli stia un altro volta offendendo probabilmente il figlio cioè quindi io ho fatto le monografie su stato a shikon sulla gente non sanno nemmeno che cosa non gliene frega nemmeno un cazzo cioè perché comunque è anche troppo facile mi dispiace anche per quelle fire name che non c'entra veramente un cazzo mia zaki ma proprio niente quel film le rete di mia zaki no ma quello lo chiamano così perché lo vogliono far vendere in realtà io ho letto interviste questo povero cristo che dice non ci arriverò mai questo è anche umile c'è non è nemmeno uno che dice io sono un grandio fa le mie storie se garbano bene su un garbano c'è perché giappone in giappone direbbe ma anche giapponesi non sono come noi ne si mettano a fa i super maestri addirittura mia zaki è lì che si trattava di merda quelli che non gli andava bene quando gli arriva quello col foglio e questa è una vecchia secondo te la vecchia sta così lì tagliare i disegni accanto come deve essere fatto se non ti vuote non dice che non hai talento dice se non ti vuoi impegnare la porta perché se è lì vuol dire che si sa che però non è assolutamente buonista nessun modo di fare perché è un artista però quando parla dei suoi film è molto distaccato come fanno tutti gli artisti che cazzo ne so l'ho fatto è lì e buongiorno e grazie e quindi giapponesi fanno un po tutti così ma anche spilberg in un certo senso io sono sicuro che se ci parli di giurassi park spilberg è un volpone ha ottant'anni non faceva più un cazzo feblus ben gli ha fatto la volta natale calcule a maverick ragazzi ma lui lo gira col culo maverick cioè ci si 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 sdraia sopra la macchina da presa e gli viene meglio cioè senza guardare un inquadratura cioè se anche lo appunto si parla maverick è scritto che giurassi parche veramente cioè aspettando godò cioè si sta guardando altissimi cioè siamo a livelli e quelle voglio di in realtà se poi però e quindi si storicizza è vero che vale per gli effetti è quello però se si guarda in che stato sono definiti blockbuster un certo tipo di sceneggiature cazzo è andata di che david corpe che ci mise la mano per renderlo più leggero con crickton che comunque erano due scrivevano era un altro livello lo stesso perché comunque per il bambino funzionava col tempo e funzionerà io non so quanti davvero fra 30 anni saranno così affezionati a super mario per il film e non per i giochi cioè sto dicendo quello quei film che incassano adesso scompaio noto che è difficilissimo creare nuove storie nuove storie nuove storie però che siano così forti in termini di immaginario il discorso che facevo prima no cioè veramente una potenziale saga che è stata abbracciata istantaneamente dalle persone ce ne sono però sono poche no ma più che altro roba marvel sì ma la marvel comunque è una cosa ripresa dai fumetti io dico qualcosa o completamente sì hanno fatto un lavorone per carità però qualcosa di veramente originale originale no perché anche se si parla del signore degli anelli comunque viene da tolkien anche riporter sì però è chiaro che c'era pure magari nei film di kubrick come abbiamo detto l'altro giorno quello sì però secondo me ci può stare perché nonostante l'enorme malloppo dei libri di dolkien ha creato un nuovo immaginario esterico volendo anche harry potter al di là della qualità dei film sì ma a livello di caldo passati vent'anni e dal capito è quello che sono quasi vent'anni c'è l'ultima punto dicevo prova cioè chi ci prova seriamente guardate rodriguez e cameron con alita che è un gran film e si creano in suo immaginario che può garbar non garbar perché devi da quello che può garbar tuoi ti non ci capisco un cazzo non ho mai visto un cazzo di alita guardo solo il film e faccio ammazzo il film finisce ma non è più interessante ora dopo tipo il 4 5 anni mi pare che cameron ha detto siccome è andato bene avatar 2 c'ho avarini che mi escono dal culo più o meno così ho chiamato rodriguez abbiamo detto ora si fa che piaccia o non piaccia però sai qual è il problema secondo me è anche una ricezione sbagliata da parte del pubblico di alcune cose che vengono messe se noi guardiamo i film che dovrebbero riprendere una saga e dovrebbero andare avanti migliorarla e non c'è un senso oppure comunque andare su quella scia pensiamo ripeto quanto successo hanno avuto quel troiaio di terminator 3 solo perché c'era quanto successo ha avuto terminator genesis salvation quelle schifezze esce destino scuro riscritto da cameron con quella linea logica lì pessimista ma ci schiocchi tre donne protagoniste e il film fa flop guarda alita ci schiocchi una donna io non guardo la qualità anche del film ci schiocchi una donna protagonista fa il flop sto dicendo che ormai il pubblico accetta solo un'altra volta le donne che vogliano loro come protagoniste c'è quelle che si comportano da uomini e non vogliono più i personaggi alla signori weaver non vogliono più alien che l'ho messo con quella faccia squadrata non interessa più perché ora devono essere tutte 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 barbie per l'appunto che ogni post ogni cosa che apri c'è una notizia fasulla clickbait su barbie per fa pubblicità ormai il cinema è diventato solo questo per creare un immaginario forte negli anni c'è bisogno che venga visto rivisto lasciato al cinema per tanto tempo il passaparola sono troppo veloci adesso i film cioè secondo me per quello che le uniche cose che abbiamo menzionato anche adesso comunque terminator parliamo del film che riprende quel terminator marvel sì ma tutta quanta creata appositamente per avere un filo conduttore che porti la gente sempre con il ricordo del film prima fatto che vada a vederlo perché poi quello dopo è collegato cioè sempre un qualcosa dove lo spettatore deve avere la garanzia che si sente già a casa non c'è mai la possibilità di entrare farsi sorprendere infatti tipo un film come baby driver che a me che mi è piaciuto veramente tanto se fosse uscito nell'anni 90 anche 80 ora sarebbe considerato un grande caldo il problema è che sembra che non sia uscito c'è uscito l'hanno apprezzato per me è un caldo è solo so però devo ne senti più parlare la gente che magari ama edgar wright ok qui lo si però non è taranti c'è ragazzi si sta parlando di un film che con l'ultima notte risasso grandissimo film il migliore ha fatto un flop enorme nessuno se lo ricorderà fra trent'anni sarà come play drama lo stesso vale per nordman speriamo di eggers ma perché così ci si chiede ma escono i film esce nordman porca puttana lo di qualità di originalità sì ma io non sono certo dal punto di vista del non non diventeranno calda non diventeranno calda perché la gente quello è tutto liquido per una generazione probabilmente però le nuove generazioni noto che non hanno intenzione nemmeno di avere le cose calda e devono prendere ingoiare mastia ricà e poi un'altra cosa ma non è colpa loro cioè li abituano così li abituano alla velocità estrema a tutto che deve bombardare quindi un caldo non può più gli ultimi caldo che si sono costruiti nel tempo appunto doni d'arco queste cose sono comunque dei primi anni 2000 metà anni 2000 dove ancora 30 anni fa c'erano ancora persone che continuavano a acquistare continuavano avere il passaparola cioè è morta l'idea del pensiero di dire io se mi garbo una cosa la sponsorizzo anche se non piace agli altri ormai questa cosa non va bene non interessa più a nessuno perché se non piace agli altri vuol dire che il problema è tuo e tu devi far garbà a tutti i costi cioè è così il problema cioè non c'è una vera ricerca da parte di chi vuole creare trovare un cult perché alla fine un film come the witch ripeto se non è più cult ve lo dire ma però no the lighthouse ha anche fede però se si continua ad avere gente che la pagano che parla di cinema che dice che Eggers è sopravvalutato che Ashter è un coglione che quella dove si va se siamo dei fronti al fatto che bua paura è un cesso di firme io ho sbagliato tutto ci ho sbagliato tutto perché se si dice ma lui deve andare dall'analista perché è un film di merda allora cosa si deve dire all'inculione del terzo piano a polanski dove dove va andare da 12 analisti allora quando ha scritto l'angelo sterminatore dove cazzo va andare qui non accettano più la surrealità non accettano più niente che li faccia pensare a qualcosa di negativo della vita perché la vita è una merda invece ci vogliono far credere in tutti i film che è tanto bella quando si sbattono in un film come alita come il nuovo terminator e sguardo a caso sono sempre protagoniste donne perché si vuol dare una forza finalmente anche un po di più perché sembra essere veramente nel mondo solito ridiolo perché è incredibile atomica bionda che vale quasi quanto un joe wick non se non cala nessuno non cala nessuno perché c'era l'isterion e poi esce il firmetto del cazzo qualsiasi con qualsiasi frank grillo che spara per aria per 6 e 22 minuti come è bello perché fa a botte un disputed 4 come è bello ma dove siamo? la logica è questa lì se anche chi e mi dispiace dovrebbe parlare di cinema ai suoi gusti può parlare di quello che li pare ma secondo me incominciate sempre meno sensibilità su quello che gli vogliono offrire di nuovo ma sempre più sensibilità verso solo quello che lui vuol vedere siamo appunto a capo perché se il critico che è il primo che deve dare i mezzi alle persone per giudicare un po meglio il cinema e anche l'amore verso il cinema è uno che lo fa per lavoro gliene frega un cazzo li sponsorizzano bebe bebe parlo di tutto mi porto una sega non da una scelta parlo di tutto tutto quello che esce ne devo parlare non funziona così posso leggere due commenti secondo me calzanti parte che secondo me poi il problema maggiore in questo senso è la molle di materiale cioè tra serie di punti troppa roba esattamente come la musica e quindi essendo troppa tu non fai proprio in tempo volendo leggo due commenti al volo intanto vabbè ma essere un grande film e creare immaginari sono robe diverse secondo me questo sì ma infatti l'ho specificato prima cioè per me harry potter è una saga mediocre ma ha creato un immaginario già c'era ovviamente dai romanzi però comunque oddio è andata via la luce in casa di fede sì sono rimasto praticamente al buio però ha creato comunque un nuovo immaginario visivo col cinema possibili calta anni 2000 e poi john wick mission impossible the greatest show men l'ultimo faccio pinta di non averlo a mission impossible però comunque post anni 2000 sì però ragazzi pure quella è una saga parliamo di 20 anni fa di quello che hai citato tu ma comunque è una roba sempre vecchia è roba che è nata nell'anni 60 alla televisione ragazzi è esatto john wick secondo me ha un problema in te non a livello cinematografico ce ne sono altri a livello di cult per me la forza l'immaginario del primo e la forza evocativa è stata smorzata dai capitoli successivi nel senso che io pensavo che sarebbe stato un crescendo ovvero il primo vabbè l'hanno fatto in quel modo è diventato cult quasi instant cult quindi hanno continuato però più andiamo avanti e più ho l'impressione che si perda qualcosa in termine di memorabilità cioè invece che aggiungere interesse per quanto mi riguarda all'immaginario john wick quello l'ho trovato depotenziato secondo me forse perché è stata più una ripetizione di di cose che un'aggiunta nonostante le coreografie meravigliose personaggio è figo per carità però non c'è stato un avanzamento per me è poi magari sbaglio un avanzamento di immaginario c'è l'ho trovato ripetiti una ripetizione bella da vedere se vuoi ti dico perché secondo me per per un motivo logico comunque di scrittura secondo me non credevano che il primo john wick avesse tutto quel successo non credevano quindi l'hanno riempito e l'albergo e il nero e il cattivo e quella della corporazione e il capo dell'albergo ci sono cinquemila personaggi quindi hanno già creato un mondo perfetto è già tutto lì quindi quando si sono dovuti portare avanti col due il tre il quattro hanno cercato di portare avanti far vedere lo stesso mondo in altre in altre situazioni perché ormai era un mondo per quello che è difficile portarlo avanti perché cerchi di inserire nuovi personaggi cerchi di farli fare cose nuove ma ormai abbiamo visto che se ci sono gli alberghi sappiamo che ci sono in tutto il mondo sappiamo e quindi avendo costruito quello il film chiaramente a quel punto secondo me come tutti i film della storia del cinema quando arrivi il primo e il secondo sono sempre migliori poi quando vai avanti a un certo punto a meno che non stacchi cioè fai come gli alien o altro che cambi completamente regista e completamente atmosfera fai un'altra cosa se no è consecutivo non passa nemmeno i giorni praticamente tra l'uno e l'altro essendo tutto di fila noi ce lo dobbiamo immaginare come tipo una settimana di questo pazzo c'è cosa che succede una settimana il ritorno c'è lui come finisce la missione arriva l'italiano nel secondo come finisce l'italiano arriva l'altro nel terzo c'è ormai il film punta più giustamente in un certo senso perché non io non saprei nemmeno io come rinnovare una cosa del genere cosa li porti dentro ormai è un franchise più e quindi è chiaro che cult resterà probabilmente nella storia il primo ma non la saga la saga resterà per chi ama perché ma il primo più di tutti perché c'è già tutto il resto per me sono ottimi film d'azione girati benissimo interpretati bene divertenti è quello che devono solo un film che è comunque derivativo dello stesso regista ma secondo me anche come film a sé stante a un immaginario devastante che mad max e fury road ma beh allora partiamo da un presupposto che mad max è anche il secondo è proprio l'apoteosi di questo discorso cioè ha creato tutto quel tipo di immaginario addirittura kenshiro ha ripreso da lì quindi mad max di miller il primo e anche il secondo rappresentano proprio cos'è l'iconografia cinematografica ma anche mad max e fury road nonostante il fatto che sia derivativo anche vederlo come un film a sé stante è potentissimo da quel punto di vista perché tu hai un soggetto molto semplice eppure tutte quelle immagini lì ti danno tantissimo sono tutti degli spazi che tu spettatore riempi perché hanno una potenza quelle immagini lì che ti dicono tutto cioè tu capisci perfettamente ok c'è un despota che gestisce le risorse non devi sapere molto questi stanno a morire di sete stanno a morire di fame stanno a pezzi non serve altro immagini come come sia la suddivisione in caste ci sono i balordi quelli mercenari cioè capisci tutte queste cose con proprio l'estetica che comunque è nuova anche rispetto ai film che aveva già fatto miller oltre poi alle scene meravigliose come quello che suona chitarra infuocata e il bambino ti calcola tutti tutti perché quella poi è geniale perché lì tutto geniale ragazzi ha creato una musica che è inter c'è la cosa bella è che loro rinsieguono con quella musica quindi c'è se hai creato una musica diegetica cioè che suona del film ma che diventa colonna sonora sempre quindi anche questa cosa in realtà è una cosa che scombina lo spettatore poi la cosa bella di miller e che cosa fa quando come appunto in questo modo non crea quasi niente di nuovo perché mad max 2 c'era già tutto questo l'acqua però miller è uno scrittore contro cazzi quindi crea tre personaggi novi tre che valgono quanto il primo infatti ora fa il film sul furiosa perché crea furiosa che è potente quanto a livello fisico è già diventato un cult e parlare di donne interessanti ma però se c'era solo furiosa te lo dio e non c'era tomardi per il film faceva flop vero tomardi tra l'altro è un sagomato c'è no ma insomma tomardi è grande nel film perché fa quello che deve fare mad max max non ha espressioni basta sì è come gimmer gibson ormai a lui ci dimentichiamo che gli hanno ammazzato il figliolo la la moglie hanno sterminato il villaggio hanno ammazzato tutti i bimbetti cioè lui è completamente lui si chiama mad max perché è fuori di testa cioè quindi stiamo di fronte a un personaggio che è schizzato come una mina che infatti incontra questi più schizzati di loro solo che ha la morale e l'etica diversa perché appunto era un poliziotto vent'anni prima 30 anni prima della destruzione quando aveva vent'anni quindi è un film che poi siccome ti fa capire no te inizia che sembra che immortal john sia il cattivo dei cattivi no ma poi in realtà ti fa capire che il mondo lui comanda quel pezzo ma c'è un altro pezzo quando arriva quello meraviglioso in doppio petto che pare vestito come wall street con tutti i buboni con la gotta che si capisce un cannibale ma non è un cannibale per scusa è il capitalismo ragazzi ma lui è un grande cioè ti crea ogni personaggio infatti capire lui mangia consumista lui è quell'altro sui pali sono quello cioè è una questione anche di come in realtà con un passaggio così sì ma quando passa al camion te vedi questa gente che vive su questi tronchi e fai qui non te li fa più vedere mai capito che lì ci sono determinate popolazioni delle quale il grande mille potrebbe sfruttare le mille potenzialità per fare altri 6.000 film ma lui non si concentra ha creato l'immaginario te lo ripone un'altra volta modernizza la sua regia perché questo è un mostro c'è questo ma avete visto 3000 anni di attesa mi sono comprato il blu ray film è meraviglioso la tempesta di sabbia che sappiamo la via ma questo psicopatico ha sparato la sabbia nella ghina la gente utilizzando la cd da computer grafica e tutto ma l'ottanta per cento è tutto fatto dal vivo ed è per quello che il film funziona perché ripeto giurassi park rimane in un certo senso perché quelli effetti non invecchiano se noi guardiamo giurassi i cuori sono fatti peggio dinosauri ma com'è possibile se mi chiede un film di 30 anni dopo la computer grafia di adesso ma perché ora è tutto plastioso e distaccato perché comunque e qui alla grandezza di spilberg anche quando sa di creare un prodotto pop che rimane nella storia e che ha poco valore di scrittura ci mette tutto quello che ci deve mette a livello tecnico e artistico suo e poi c'è ragione tu quando dici che la cga è fatta sul momento può sembrare credibile quando vai al cinema ma dopo un anno già in vecchia guardate il pre quelle di guerre stellari urlano urlano no no proprio pre quelle di 12 è una minaccia a merda la minaccia di merda c'è un film veramente che devo stare a vedere per un'ora e venti in bimbino del cazzo che con le macchine è proprio stupido come è scritto c'è è un coglione si fa prendere per il culo della pona invece di cioè ci siamo dimenticati ci obbio anche nobio taglia una mano a uno ma dentro nel barra incazzevole non gli rompe coglioni questo ogni volta i pezzi gli fa vabbè qualche modo si fa ecco quella quel film non ha epica per esempio no ma mi ha piaciuto una cosa perché da lucas non mi aspettavo la differenza fra forza c'è violenza psicologica e fisica c'è lui gli fa una violenza psicologica lo vuol convincere con la forza rincoglionendola a dare di pezzi e poi quando questo fai te non mi rincoglionisci io controcedi non capisco perché non tirai fuori la spada che differenza c'è non capisco la differenza l'avresti obbligato con la forza non l'avresti pagato buongiorno e grazie la tira fuori la spada tagliani un'ala gli fai ora mi dai pezzi se no qui ci muore la principessa io ti strappo la testa perché è furbo come film ovviamente lo spettatore mamma mia mamma mia lo spettatore non vede l'arma tornando alla base gli effetti speciali ora sembrano fatti col Vic 20 perché è tutto al computer ed è invecchiato malissimo invece Alita un'altra volta Cameron fa l'ottanta per cento tutto a Manola e quando vedi loro vanno su pattini corrono pare vero non c'è versi i registi sono questi John McTiernan i veri registi d'azione ma dove cazzo sono finiti se li sono inglobati John Wick è una fortuna questi hanno avuto il culo che gli è venuto un film ganso con King Reeves hanno rilanciato King Reeves e è fortuna perché poi in realtà lo stesso regista ha fatto cose interessanti ma poi però sembra che vogliano tutti rincorre quello anche io sono nessuno è molto carino ma pare John Wick c'è anche lì c'è una ricerca che però si ferma come uno a successo ne ha scanducento tutti uguali e lì però è sempre stato però quello che intendo io è cercare di trovare all'interno dei film ma anche pop quello che ci va comunque di giurarsi il park perlomeno un'idea artistica di ciò che lui ti vuole almeno mostrare non dico narrare ma almeno mostrare cazzo perché il cinema almeno al 50 per cento è fatto livelli e mi mostri e quello che mi mostra un valore il problema è che quello che vedo adesso ed è per questo che non rimangono i cult non è possibile che mi rimanga un vero valore strane di avatar che rimarranno calte per 40 anni di un vero valore di film che anche magari bellini fatti bene ma che poi le vedi una volta tipo che ne so io mi sono divertito con quello del bimbino che pare superman invece l'angelo del male incazzatissimo brett barn che poi ammazza tutti ma chi vuoi che rimanga sono film fatti sul momento incassicchiano e via più cult se volete la mia esperienza incredibilmente come ho detto sempre è un po' come metallari che sono quadrati guarda ascoltano quasi solo ser quelli ma lo amano fino al fondo e quindi il metal non morirà mai in quel senso è l'horror in realtà qualcuno di horror è rimasto cult è venuto fuori più cult perché io che ne faccio un po' parte ma i veri fissati dell'horror cercano di stare dietro e danno fanno diventare cult anche a volte quello che non serve però ecco c'è qualcosa lì però poi alla fine qual è il problema se te sei Ari Aster e fai ereditare è un horror Midsommar è un horror poi arrivo a paura non è un horror chi ama l'horror non ci va cioè diventa quello il problema cioè il problema è che ormai siamo in una condizione che carpenter per il pubblico di oggi avrebbe dovuto fa sempre il suo film di successo tutti i 1997 non avrebbe mai provato a fare altro cioè questo ormai standardizzano perché se tutti i film della marvel sono uguali bisogna che anche gli altri siano tutti uguali e se it è diventato di muschetti il più grande incasso horror degli ultimi anni bisogna farsi una grossa domanda mamma mia perché è una delle cose più brutte che si siano mai viste l'uno e due perché al solito film è il primo e il suo tempo sono delle zozzerie e è pieno di zozzerie zozzerie sul zozzerie sto muschietti ha fatto dei flash che è roba che si dovrebbero vergognare solo a proporlo in pubblico c'è un commento di un ragazzo che di cui leggerò il nome solo in fondo insomma marra non ha epica per il 90 per cento del film poi arriva due all fates per quanto brutto con la parte iconica e ce lo scrive no da skywalker ma di che firma sta parlando di episodio 1 no da skywalker io capisco dal niente che c'è due all fates c'è la scena dove combattono in fondo ma sta a cagare ma se dici te che c'è il 90 per cento del film che non funziona e poi arriva la scena la ti guardi la mv su youtube con la musica epica ma fa anche da io ma non è vero ma scusa ma il bello ma questi sono amanti di guerre stellari per modo di dire il bello di guerre stellari è che i combattimenti erano fatti con la forza come facevano i samurai con con la coscienza stando fermi e andandosi un colpo alla porta cazzo ma è kendo siamo passati dal kendo a sui arcano ma è un'altra cosa ma è girato di merda con l'orzacchiotto ma gli garba davvero il no non è quello è lo scontro con il milanista con l'orzacchiotto con d'art ma ma cos'è un cattivo ma cos'è un cattivo però io per le orecchie lo volo io dal pianeta ma cos'era gli hanno dovuto dare due spade perché se doppiafava perché una univa stava poi secondo me molti si confondono anche per il discorso che facevo prima sul fatto che alcune cose della prima trilogia come la colonnosa anora banalmente sono così iconiche che poi basta riportare quelle note per rendere un momento eccezionale come quando poi è apparso che ne so dart vader nel film quello più recente basta con già quelle note no che effettivamente cioè è così per me ma perché sono evocative ma per me comunque detesto che ne so ecco prima l'ha citato federico detesto quasi tutti i film simili deflasher o bacio del genere però è ovvio che nel momento in cui mi vedo michael keaton non la cinema quel film non l'ho visto proprio ho scelto di non vederlo nel trailer lì per lì il davide marra subito ha pensato oddio barton porca troia poi ti fermi un attimo dici no vabbè che è conciato così a 78 anni quindi ho detto no però lì per lì il cervello è stronzo ma lo fanno a tutti lo fanno anche a me cioè l'importante è a prendersene conto poi le fermi in secondo diciamo ferma no ma poi avessero avuto la ghigna il coraggio di chiamare barton allora lo fai per giracolo anche quando ha girato se film è peggiore il pianeta delle scimmie lì c'è comunque perché se poi leggete barton racconta barton lui il pianeta delle scimmie lo detesta quindi c'è nemmeno che ne parli bene cioè si dice si continua a dire veramente che dar shadows è un film di merda quando è un capolavoro e poi mi devo veramente pupà della roba obbligosa tutti i giorni come the flash che mi dicono è bello cioè ma ragazzi ma questi hanno messo ben il ben il show questo idiota che fa battute ogni secondo qualunque cosa capitano si mettono a ridere è tutto una risata non si riesce non si capisce più se questi volevano fare una presa di uro di flash che non si capisce io quando e quindi su questo io dico ma se anche flash io infatti tutti dicevano james gun james gun non c'è una riga di james gun e meno scritto fra i produttori esecutivi perché questo è un progetto pre james gun della dc e si vede alla grande infatti aspetto i prossimi perché magari con la produzione di lui potrebbe sì super me per vedere se tira fuori qualcosa da un personaggio che però io ripeto secondo me va tirato fuori benissimo richard donner perché non è molto filmico è molto fumettoso è troppo forte superman dove cazzo me lo metto no ma fede a quanto pare si presume lui vuole raccontare la fine la morte di superman quindi no non è quello è quello perché ora non sto raccontando la storia perché magari non molti hanno letto allo star superman ma diciamo che superman per via di questi grandi poteri lui tra i poteri dal sole riceve una brutta notizia e quindi deve chiudere diciamo i conti ma magari già questo è più interessante una bella operazione che è stata fatta in ultimi anni però come serie tv e the boys io per esempio avevo droppa avevo droppato mi pare la terza stagione adesso ricominciata rivederla perché mi ha un po rotto i coglioni però come idea è bellissima è la prima 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 mi era piaciuta un sacco poi 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 lo sai qual è il problema che lì poi ovviamente allunghi troppo il brodo quindi dopo un po' quella plot armor infinita dei non super diventa un po' una rottura di coglioni a un certo punto dici cazzo c'hai patriota e questi mostri che so dei superman e continuano a affrontarli da umani non c'è credi più ci che di una volta due volte quindi allungando troppo un po viene vero però diventa supereroe anche loro infatti dopo prendono un posto vabbè senza spoilerare però torna nulla lì ma non torna più nulla la partenza sì però l'idea iniziale continuano però l'idea iniziale è molto figa cioè tu alla fine prendi un superman che però un pezzo di merda che ti fa cagare sotto ad ogni inquadratura che è controllato no tramite l'opinione pubblica perché vogliono lucrare cioè l'idea di base è super interessante tu hai effettivamente un onnipotente e devi stare attento però è un pezzo di merda se invece lo fai pure super buono o gli metti come infatti poi fecero nei fumetti una kriptonite quindi ogni volta devi giocare su sto fatto che il cattivo de turno c'ha sto pezzetto verde che due oppure come è successo anche per altri grandi scrittori di graphic novel anche chi ha trattato magari batman cioè fai qualcosa di più intimista o comincia a raccontare la decadenza di quel supereroe se no da adulto ovviamente secondo mi rompi i coglioni a vedere un essere perfetto se non metti sempre le brutture poi già di già batman è molto più interessante di superman come soggetto ovviamente non sono d'accordo però qui si va a prima pare no no io parlo proprio a livello filmico diciamo di trasposizione potrebbe essere cinematografico dipende dipende mai sai perché perché è più vicino a noi cioè come trasposizione anche più semplice c'è il suo carattere di quello comunque di un di un umano che ha perso la famiglia c'è superman beh ma a livello cinematografico è più facile da portare dai e il cattivo lo devi scegliere puoi decidere molto meglio ma non è quello che porta superman secondo me vicino al livello filmico a livello filmico i superman danno l'idea infatti il migliore superman 2 quando arriva quello che però da delle donne dove c'è appunto terence temple che fa il cattivo zod il superman 2 vecchio perché li hanno trovato tre cattivi fortissimi quanto lui e quindi film in realtà aveva un bel ritmo era interessante per questo più di come hanno trovato la risoluzione del primo un bimbo come me che non è cresciuto a fumetti di superman vede che gira intorno alla terra li fa girare all'asse per tornare dietro il tempo ma non potevi trovare una sceneggiatura migliore ora per chiudere questo cazzo di film c'è una cosa un po' fuori dal mondo però mi rendo conto che non capisco un cazzo dei fumetti e te davanti ai fumetti puoi dire no perché non conosci questo sicuramente no ma io per esempio il mio preferito resta il mio da quando sono piccolo è spider-man non ci posso fare niente quando lo faceva lo moragno lo faceva sperrini ho goduto quando ho visto che gli faceva velati io non leggo superman quindi non leggo il fumetto attuale di superman non mi interessa niente sto parlando più che altro non c'entra nulla il fanboismo anche perché non sono d'accordo anch'io come fascinazione come costume come personaggio come nemici batman è sicuramente superiore ma il fatto che non possa venirne fuori un film vicino al popolo vicino al pubblico secondo me semplicemente perché nessuno si è mai sforzato di prendere quello che funzionava di superman vicino al pubblico ma tutti hanno preso il fattore super potenza super vista super bravo lui e hanno fatto diventare film di superman dragon ball ma io quando vado a vedere superman non voglio vedere dragon ball secondo me messinger ce l'aveva provato però superman retards è troppo massacrato secondo me perché ha provato a dargli anche questo senso quasi omosessuale a questo superman sapete secondo me l'unico vero grande problema di superman l'outfit ragazzi veramente è un po bruttarello bisogna no 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 ma allora io non ho mai supportato sta cosa perché ovvio pure batman dici te vesti così però cioè io dico non riesco a immaginarmi un alieno vestito così no ma l'america ha senso anche patriota ha senso perché lì tu c'hai quelli che ti curano l'immagine devono fare super ora cioè non riesco mai a trovare sensato nel cinema dico è poi sul fumetto un'altra cosa nel cinema l'outfit di superman c'è però da un coglione sempre perché si è trovato il regista no no ma ma tutto quanto potenzialmente è trasponibile il costume che aveva fatto però barton non era male perché l'aveva molto eliminato l'aveva fatto quasi armatura alla batman e gli aveva anche levato il mantello lui gli voleva levare anche il mantello il problema infatti come negli incredibili prendono per culo è una cosa in batman voleva levare il mantello giustamente pensate che assurdità però che a barton una delle cose per cui non gli hanno fatto fare superman perché non voleva il mantello pensate a messo assurdi a ma fatene fa barton ma poi oltretutto i due batman avevano fatto un successo clamoroso boh e invece ci sono messi in mano a schumacher e quelle dico c'era di non so cosa è successo ok boh era scambiato le saluti in pratica e comunque giurassi park avvenne ora cioè nel vero senso se fossi un bambino devo dire una roba sul costume perché e sul mantello perché a me è lessona che mi è sempre stata un po strana super me ne sono poi dicono che un'altra cosa però anche in italia quello torna male per noi ma non me ne frega nulla della s non me ne frega nulla della s il discorso del costume del mantello è perché nessun regista l'ha mai saputo inquadrare questo superman l'ha mai saputo inquadrare questo mantello perché il mantello serve solo a dargli un aspetto divino e secondo me se nella star superman o quello che diventerà il film di gun superman diventerà non il protagonista assoluto ma diventerà quasi un personaggio che arriva e che cerca di essere vicino al popolo per quello che lui è lui è il popolo e quando manca il popolo lui perde di forza per quello nessuno l'ha mai saputo gestire perché in un periodo del genere in un periodo dove appunto le pellicole sono sempre più liquide il gusto si sta uniformando eccetera superman non può funzionare perché superman è un buono che vuole cercare di raccontare il popolo immergendosi nel popolo e nessun regista ha il coraggio di prendere un eroe popolare e riportarlo al popolo ma lo eleva diventa quello che spacca tutto e le spacca palazzi e piglia zodi troncar collo ma quello non è superman superman è una persona che davanti alle persone davanti a una folla che protesta si arrende non si muove perché non vuole fare del male a nessuno perché è quello che fanno in superman 2 se te lo ricordi infatti in superman 2 quando stanno per ammazzare la gente decide di andare via lui scappa e se le fa portati al decreto qui non vuole fare violenza davanti agli altri che tutti dicono superman sta scappando non è vero sta facendo altro non vuole ma per quello che ti ripeto ci sei hai ragione però probabilmente ci sarebbe più possibilità il mantello rosso che svolazza e che dà un segno di speranza a un mondo che è sempre più nella merda secondo me può essere può funzionare tanto il rosso la speranza la vedi solo tu al massimo quello è verde speranza ma per carità supereroe verde io ci vedo io c'è l'alterna se lo dai a tim barton se me ci tira fuori e mantello non mantello c'è la mia paura è che vi spiego secondo me è ridicolo il fatto che adesso tutti muoiano dietro questi supereroi ma quello che gli piace i supereroi è il fatto che facciano le risse quando secondo me invece c'è un supereroe che può rappresentare speranza che può portare al cinema la gente di ah bene ho visto un film positivo che mi ridà ottimismo mi ridà speranza nonostante al star superman non sia un film speranzoso ma abbia anche dei tratti cupissimi e drammatici a bestia se davvero si ispirano a quello io spero con tutto il cuore che facciano quella roba lì potrebbe essere veramente ma chi lo gira il regista chi è perché poi il problema è quello spero gan io spero io so che alla produzione vuoi scrivere un po di roba perché se poi lo danno mano un'altra volta a nispel io credo gan ma sai sai perché dario perché quello che dice giustissimo al di là al di là del del bait forse qualcuno si ricorda che a me piace come concetto non tanto come supereroi ma come concetto si tant'è che un genio come tarantino se parlava dei registi riassume un aspetto molto interessante di superman in una frase però quello che dici tu è vero purtroppo adesso siamo semplicemente dipendenti dal super uomo non è l'accezione oltre uomo cioè super inteso come è più forte più figo vorrei essere lui è il discorso di arrivismo condiviso tant'è che infatti james gunn è forte per questo guarda guarda nella galassia perché rimette dei coglioni dei cazzoni fallibili popolari però è quello che dici tu infatti secondo me lui prenderà per quello che sono contento lo dirà che anche confermato secondo me gunn andrà a prendere tutte le caratteristiche più belle di superman perché se no nessuno ha letto superman stagioni che è commovente a ogni pagina e lo riporta tra noi e se gunn fa questo che poi l'ha riportato a noi air walkman i sentimenti che provano sono sentimenti belli puri no anche l'uomo più grossi e più alieni provano sentimenti vicinissimi a noi no per seppur retorici ma va bene anche la retorica quando si torna adolescenti in maniera positiva però e secondo me lo riporterà tra di noi lo riporterà nel popolo io sono molto contento perché per quello mi funziona anche la mutanda perché non mi funziona la mutanda ma lo sai perché se lo fa bene mi importa ma guarda si stava anche un po' a scherzare che è ridicolo no no ma io se il film è fatto bene non me ne frega un cazzo io però ho una mia idea questa è una mia spassionata non ci posso fare niente non è su superman è su gun ma mi vai a tornare a fan film che non è con superman per favore magari uno porca puttana ma cosa farà in venduto di merda da quando ha detto a quando ha chiesto scusa disney scusa è finito il gun di trome giulietto stiamo parlando di un grande regista ma di uno che ha fatto la pantomima con la disney facendo finta di essere licenziato perché voglio vedere e l'ho chiesto alla disney voglio vedere il contratto di licenziamento e quando l'arriete riassunto non era vero un cazzo dovevano far scoppiare guardiana galassia 3 che ha fatto un incasso gigantesco guarda caso perché dovevano farlo scoppiare perché c'era il cobit era un casino lui ha rotto i coglioni quindi testa i fermo perché ce la fa rangers infiniti war and game non rompere i coglioni con guardiana galassia perché lui se no dentro quella maria di distronzato non ci sarebbe mai stato tant'è che nei guardiani della galassia 3 c'è solo il ritorno minimo di gamora tutto il loro la loro cazzo di inverso se ne strafotte con l'ultimo film a me lì mi è crollato c'è un regista che deve chiedere scusa per continuare a lavorare ma io se rogan mi facciamo la prevedere questo ma vattene a fanculo torno da lui kaufman ho già fatto sette film un buon show miliardi va a fanculo però è sempre lo stesso campo da gioco poi so bei film perché bravo meglio che i faccia lui però effettivamente uno dice potresti fare anche altro perché se no ora che sei arrivato a questo e se no paura che faccia la fine mi dispiace di sembra e mi che poi non fan film 12 anni perché uno li va male gli tocca fa dottor stengi del cazzo che tutti grande dottor stengi ma avete visto ma cosa avete visto c'è anche lì ma uno come me chiama sembra e mi ragazzi sarò innamorato ma non sono un fan il suo obiettivo il tema è una merdina inutile che fate lì ma gira la macchina a presa vorrei anche vedere che non la giri nemmeno però dico solo una cosa per sto commento non capisco sta cazzata del superman no secondo me più che dio perché superman più che dio dovrebbe nella lettura di dario è un gesù no ma lui dice letteralmente dio che è già sbagliato ma no no ma io dico che nella tua ricostruzione che secondo me è corretta dovrebbe essere un portatore si è più un portatore che è stato prestato gli abitanti della terra diciamo nel senso che è esatto è qualcuno che ha a che fare con gli umani ma fondamentalmente pure gesù c'ha i poteri però alla fine comunque si spende per e muore per senza ribellarsi è una persona che quando in un ciclo di storie meraviglioso tra l'altro che cita tra l'altro i periodi artistici proprio l'arte senso stretto fantastica e fantastici prende e si auto esilia e va nello spazio a vagare perché si sente in colpa di aver fatto morire degli innocenti queste sono l'ha fatto anche il superman retarza il colpa era uno di noi siamo ha preso e se n'è andata via per dieci anni come cosa tra l'altro che trova appunto il figliolo che trova appunto il figliolo che lei figliolo è cresciuto la e lui non sa che il suo figliolo ma che tira su il che guarda che quel film ha delle idee interessanti secondo me come ha detto singer è stato chiuso dalla produzione che ha voluto a tutti i costi e come si chiama l'osa verde lì la crittonica non ce l'aveva messa perché lui era tutta una storia d'amore particolare di lui che in realtà poi si scopriva non amare lei e quindi era un film molto particolare al singer gli hanno rovinato poi avete visto il casino di singer perché ha fatto vattro feste in casa sua omosessuale l'hanno deflagrato in più c'è che vi spesi nel film che non ha fatto un cazzo nemmeno hanno portato un tribunale ma l'hanno ridi deflagrato quindi è un film di cui non parla nessuno perché poi c'è il protagonista che è finita a fatti landoghia quindi se ne vergognerebbe che si è vero è un film talmente ad un certo senso alcuni punti ben fatto che non viene mai ricordato dalle amanti di cinefumetti che in confronto a quello di snyder ne vale 600 per il semplice fatto che c'è dentro tutta roba che i media e ma il tutto il mondo globale può far dimenticare c'è che gli spesi ryan single che sono registrati sospetti e la dievano si ha fatto firmini brutti cioè si parla di uno che ha fatto x man 2 l'ha fatti diventa shakespeariani cioè per fare un grande di fine fumetto bisogna farlo diventare epico non c'è versi oppure fai come gun l'epica diventa talmente bassa che si alza da sola per perché questi personaggi sono talmente di fuori talmente tutti da guardiana galassia quelli dei suoi sono talmente sopra secondo me che a un certo punto non puoi altrimenti non non ti fare per loro perché la cosa bella della guardiana galassia come di su sei squadre è che sono dei cattivi con dei buoni sentimenti ma anche guardiana galassia partano che devono essere criminali tutti diventano guardiana galassia perché ce li fanno diventare l'ultimo film è la vera chiusura infatti è un film che tanti hanno detto ma che palle troppo triste perché non ha la chiusa ed è qui grande gun non lo sputtano ma non si chiude come tutti volevano che si chiudesse guardiana galassia non si chiude così smonta tutto quello che doveva essere il finale classico di un qualsiasi film della marvel gun fai cazzi sua e trasforma l'ultima parte veramente in il grande freddo di kasdan sembra quella parte lì quando vanno tutti via e fai mio dio ma è impazzito cioè per me lì è il grande film punto però vorrei vederlo anche fabbo film di fantascienza normale per ora va così poi staremo a vedere e ho paura che scompaia capito perché come fai un flop un giorno no non credo a farci a flop devo dire buona ragazzi io vi saluto vi abbraccio vi auguro buonanotte tardi buonanotte a voi ciao ragazzi sempre un piacere ciao dario ciao 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 Grazie a tutti.